Berlusconi, padre delle riforme, dal PD arrivano no pesanti all'autocandidatura del leader PDL, a cominciare da quello di Matteo Renzi. E' inaudito, non può guidare la convenzione che dovrà riformare la Costituzione. Non possiamo trasformarlo in un padre costituente. Anche Fassine, entrato da meno di 24 ore nella squadra di governo come viceministro dell'economia, non rinuncia alle polemiche. Non è adatto, serve una figura capace di dare garanzia a tutte le forze in Parlamento. Lo Stato Maggiore del PDL passa al contrattacco, inaccettabile un veto su Berlusconi. E' stato lui a rendere possibile la nascita del governo, fa notare Bondi. E la sua presenza e il messaggio che lasciano filtrare da via dell'umiltà sarebbe la migliore garanzia che si fa sul serio. Così in pochi giorni la convenzione, che avrebbe dovuto essere l'assicurazione sulla vita del governo, ancorando la sua durata a quella delle riforme costituzionali, diventa un'altra occasione di tensioni. E se in parte si tratta di guerra di posizionamento, fare la voce grossa per dimostrare di essere l'azionista più pesante, serve anche a conquistare posti strategici per affrontare la navigazione. Si litiga infatti su chi ne prenderà il timone, ma non solo. Si parla di 75 componenti, sul profilo però non c'è intesa. Secondo Luciano Violante, infatti, non dovrebbero essere parlamentari e non può guidarla un PDL, visto che già il ministro delle riforme, Quagliariello, fa parte di quel partito. Il rischio è maggiore, è quello, diciamo così, dello scarso peso politico di una convenzione fatta solo di esperti e non anche di parlamentari. Io vedo la convenzione in modo rovesciato rispetto a quella di Violante. Il rischio, insomma, sarebbe quello di appaltare la funzione legislativa all'esterno del Parlamento esautorandone la funzione. Il PDL non molla neanche sulla presidenza, quella poltrona tocca a noi, dice Cicchitto, dopo che il PD con 150.000 voti di vantaggio ha già fatto in plen di cariche. Fuori dal Parlamento di Pietro Ironizza il cavaliere presidente sarebbe come Dracula Lavis. Convenzione, strumento inquietante, assalto alla Costituzione, ha già decretato Stefano Rodotà. Anima in subbuglio, il Lettiano Boccia prova a togliere ossigeno al fuoco. La convenzione sarà oggetto di un incontro, di un accordo tra i partiti. Le polemiche in questo momento sono ingiustificate e è opportuno che tutti i gruppi parlamentari presenti in Parlamento di maggioranza di opposizione diano il loro contributo.